amici ed amiche un caro saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con toy tinker simulator come sempre ringrazio moderatori moderatrici gli amici le amiche i sostenicoltori e tutti voi naturalmente che vi iscrivete ai miei canali social se non l'avete ancora fatto come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate diversi link naturalmente i miei canali social un link che vi permetterà di acquistare i giochi scontati e naturalmente il link che vi permetterà di visitare il sito dei piani bio visitate il sito www.ipianibio.it alle pendici del monte cucco nasce la società agricola bio i piani la genuinità dei nostri prodotti biologici al 100 per cento sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli da noi troverai farro ceci lenticchie e farine di farro ceci e di grano duro scegli il vero bio italiano buono e genuino scegli i prodotti di i piani bio i piani bio mangio bene anch'io www.ipianibio.it ci trovi anche su facebook ed instagram quindi mi raccomando visitate il sito www.ipianibio.it mi raccomando acquistate con fiducia perché da loro troverete il vero cibo biologico italiano a scento per scento ma detto questo andiamo avanti con la serie approfitto anche per salutare tutti coloro che si stanno iscrivendo ai miei canali social in particolar modo a coloro che stanno permettendo di crescere sia il canale twitch ma anche l'altro canale il canale youtube a voi naturalmente faccio un bell'applauso che ci vuole grazie mille thank you so much allora vajuni andiamo un po avanti cerchiamo di completare quest'altra serie da principiante piante queste dovrebbero essere due o tre pezzi and so hi everyone welcome to this video as I say every time first of all I want to say thank you so much to my moderators friends supporters of the channel and if you are not a follower you will find in the video description a few links a link where you can buy games with a low rate price up minus 70% and then you will find my social media channels links and if you want to test and and see by your own eyes the bear food you will find in the video description the link where you can visit the site by e p&e bio ok now let's go home thank you so much everyone thank you developers for the key allora andiamo avanti perfetto allora scendiamo giù di jazz chass chubbido~~ how to sleep Ho scoperto che Pasquale Cos'è nata Cefalon Quanto mi arpa E il blues Qu'est ce che c'est? Qu'est ce che c'est? Qu'est ce que c'est? Et touts et touts Et facciamo touts et touts Oh yes oh yes Oui carissima Gaia Buonasera Eh non è nemmeno iniziato Andate a visitare il canale della nostra mitica Gaia mi raccomando La nostra Gaia a casa Bonsoir mademoiselle Siamo un po' più jets stasire Allora l'hai già provato il famosissimo vestitino Tutto bello Si stimati all'os Il vestitino Sono un po' più sensuale Ah però Già fa così caldo da dire La mappa Eh Beh che effettivamente L'aria si è incominciata Già a riscaldare In questo Ahahah Hai fatto lo strip Pt pt Ci hai fatto Di sabbillomonte Alla fasci de bicarbonate Quindi è domani che O già si è andata al matrimonio Per la nostra Gaia il nostro dj ha scelto una musica un po' più soft Oh ma che è qua Si è scorgato qualcosa Vedete Ah ecco Vai dj Sono il sax Ah domani Ah quindi domani è grande giorno Tutti diranno Alla fascia del bicarbonato di sodio Mi farà rimanere a bocca aperta praticamente Eh vabbè Eh vabbè Presta ancora Vabbè Appena iniziato a fare un po' di caldo eh Non so da te Oggi c'erano qua credo 26 27 gradi Si sentiva Insomma La caluria Che calor Che calor Che calor Ha picciato sto ventilator Ah e vabbè Vabbè ma tu sei più caliente E allora è normale che Da te la temperatura è un po' più alta Scherzo scherzo Sempre massimo rispetto Tutta per te Gaia queste Questa canzoncina Questa musica Tutta bella Frizzante E pop dance Frizzante Cercato Ah e vabbè perché tu dici che con il fresco è più ma quando fa freddo poi secondo me lo so si tende un pochettino a a collaudare di vino e vabbè è normale credo sia il caldo che siano queste temperature che mettere un po' di di effervescenza è proprio l'aria quindici e freddina diciamo che sui venti gradi più o meno rito eh vabbè poi dipende sempre uno da come le percepisce le temperature è una questione di percezione io per esempio preferisco molto di più l'estate è vero che fa caldo però diciamo che uno è un po' più libero di non mettere l'olio sulle scarnie delle porte no scherzo vabbè ma l'inverno o l'autunno o la primavera sarebbero l'ideale ma quelle che c'erano le temperature di vent'anni fa anzi qualcosina più di vent'anni fa ma che fa c'è stata un po' di situazione e che quindi ha fatto il furbacchion voilà la bicicletta per la nostra Gaia una bella mountain bike ah no questa è una BMX per la nostra Gaia una bella bici da passaggio domani devo fare un salto da te scherzo immagino già questo vestitino e tutti che fanno oh è vista Gaia alla faccia del bicarbonato di sodio Totò cosa cosa diresti alla nostra Gaia visto che domani si mette un vestitino preciso preciso bravo vedo che Totò mi capisci a volo diciamo che sia un po' più scoperti quindi anche perché non è nell'inverno che tu se hai freddo allora ti copri love is in the air come dicevano non mi ricordo quale cantare che si gruppo love is in the air and when I look around le uova sono da ieri oh ma ah ecco la stampante wow ma non ho visto ben l'icune oh questa è la varchatella della nostra Gaia voilà una bella varchatella per la nostra Gaia mi raccomando iscrivetevi al canale eh sì diciamo che d'inverno è tutto un po' calante più che caliente va e quindi di conseguenza dice un dengo voglio e la primavera risveglia si risveglia la natura e si risvegliano i sensi meno male nel senso vuol dire che se si risvegliano i sensi vuol dire che sa march è tutta a busto oh abbiamo sbloccato le prime dieci varchatelle allora ci facciamo quest'ultima quest'ultima cosa perché poi ehi continua ci facciamo quest'ultimo ottimo lavoro poi troppo devo lasciarvi perché faccio Ah c'è ancora un altro pezzo Ok E voilà Le jeu sont fait Allora rasole Io debbo staccare un attimo E ci vediamo frappi Terminiamo un attimo qui Se ne frappi Ragazzuoli allora ci vediamo fra un pochettino Ah frappoco Ciao ragazzuoli Ciao Alle penici del Monte Pucco Nasce la società agricola bio I Piani La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% Sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro Scegli il vero bio italiano Buono e genuino Scegli i prodotti di I Piani Bio I Piani Bio Mangio bene anch'io www.ipianibio.it Ci trovi anche su Facebook ed Instagram www.ipianibio.it